Oggi è la festa del 2 giugno, la festa della nostra Repubblica, la Repubblica Italiana e Sergio Mattarella è arrivato all'altare della Patria per ovviamente rendere omaccio. C'è stata la parata del 2 giugno in corso ricordo le celebrazioni per la festa della nostra amata Repubblica. È stato accompagnato dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli. Mattarella andrà a deporre una corona da loro al stacello del mini Tegnoto, sulla scavinata ovviamente sono schierati i corazzieri. Presente anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i Presidenti di Senato e di Camera Elisabetta Carsellati e Roberto Fico, il Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi. A piedi del Monumento schierati reparti interforse che hanno reso gli onori al Presidente. Applausi ovviamente al passaggio dei militari in piena parata. Grazie a voi utenti di Youtube per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, commentate e buon 2 giugno a voi. Al prossimo video da Leandro Arias, narratore italiano. Grazie a tutti.